Buon pomeriggio amici sportivi e tifosi del Savoia e benvenuti a Nuova Florida Savoia al recupero della diciassettesima giornata di campionato Serie D Si parte con il primo pallone toccato dal secondo l'arbitro, poi Chiere Mateng, Chiere Mateng calcia col destro Pallone fuori, c'è la chiusura, poi ancora Moretti mette questo cross dentro, sponda ancora Perpiro che calcia col destro Ancora Fornito, gran giocata di Fornito che entra in area di rigore, Fornito dentro Termina qui la prima frazione di gioco tra Nuova Florida e Savoia sul risultato di 0 a 0 Si parte con il secondo tempo Attenzione Coratella, c'è Esposito che va a chiudere, poi Piro ancora Esposito Perfetto il numero 1 Attenzione Coratella in area di rigore, Coratella palla dentro al cercare le fatte, Cipolletta ma c'era fuori gioco di Coratella D'Ancora, tanto spazio per lui, ancora D'Ancora col sinistro, la parata di Giordani Fornito Ancora Fornito dentro cercare Chiere Mateng e entra in area di rigore, Chiere Mateng può calciare col destro Ma col destro, attenzione il colpo di testa di D'Ancora, poi il sinistro al volo Gran botta Poi anche Coratella ma c'è la parata di Toschi ci batte subito, attenzione Suriano palla col sinistro Termina qui anche la seconda frazione di gioco Team Nuova Florida 0, Savoia 0 e da Pierpaolo Milone è tutto